Carissimi amici della pagina degli amici del Valorotomia, buona domenica. Oggi niente sbarbata, la faremo prossima settimana con un rasoio che sto aspettando, nuovo. Non vi anticipo quale sarà. Oggi argomento tecnico perché mi sono sollecitato da molti di voi che mi hanno scritto dopo che due settimane fa in coda un video di una rasatura avevo detto come la pensavo riguardo alla questione molto discursa nel campo della rasatura tradizionale, cioè la questione dell'aggressività dei rasoi, dell'efficacia dell'open com e del closet com. Anzi, pettine aperto e pettine chiuso perché noi parliamo in italiano quando possibile. Allora, parto subito da quello che avevo già detto. La mia idea è che sia sbagliata la convinzione generalizzata che c'è ancora che il rasoio a pettine aperto sia più aggressivo e più efficace del rasoio a pettine chiuso. In assoluto. Questo non è vero. Questo non è vero perché, e qui lo ribadisco, l'aggressività o l'efficacia, chiamiamola come vogliamo, del rasoio di sicurezza non è data dal tipo di pettine ma è data dall'esposizione della lametta. Quindi più la lametta è esposta, quindi più la lametta ha distanza tra il pettine e il coprilamette, diciamo, cioè la distanza proprio di azione, più la lametta diventerà efficace e aggressiva anche perché lascerà meno spazio a un errore. più la lametta invece è aderente, se vogliamo, adesso cerco di spiegarmi, al pettine, più la lametta sarà docile e gestibile. Ora, io ho preso due rasoi in versione dorata della stessa marca proprio per fare un confronto. questo è il Fatip, Fatip grande, dorato, questo è l'open pettine aperto, vedete, e questo è il gentile pettine chiuso. La testa è pressoché la stessa, anzi è la stessa. La differenza è che Fatip ha aggiunto una barra di sicurezza nel pettine chiuso nel gentile, mentre il pettine aperto è, come dice la parola stessa, aperto. L'esposizione della lametta è identica, quindi l'efficacia di questi due rasoi è la stessa. In mano a un tonsore esperto questi rasoi fanno lo stesso lavoro. Ora, che cosa serve quindi il pettine aperto? Il pettine aperto è appunto un pettine, quindi lo dice la parola stessa, e serve a disciplinare con i suoi solchi un pelo lungo. Quando nasce il pettine aperto? Il pettine aperto è il primo pettine che viene inserito nell'autore di sicurezza, teorizzato da Jean-Jacques Perret nella seconda metà del settecento, realizzato da Gillette ai primi del novecento fino ottocento, brevettato. Perché? Perché in quell'epoca generalmente erano molto di più coloro che andavano dal barbiere, che era quasi, il barbiere era un centro importante per la società, nei paesi. dal barbiere ci si incontrava, si parlava, era un centro di aggregazione quasi. E si andava una volta alla settimana circa, quindi con la barba abbastanza lunga. quindi il concetto di rasatura quotidiana è un concetto abbastanza contemporaneo, che nasce diciamo in anni, io direi novecento, ecco, magari un po' prima della metà del novecento, però il concetto di rasura quotidiana non c'era all'epoca. Quindi era evidente che servisse un strumento per disciplinare un pelo lungo. In secondo luogo, il rasoio a pettine aperto, se è utile con un pelo lungo perché appunto lo disciplina, lo mette in riga per la rasatura, diventa del tutto superfluo quando facciamo una seconda passata, una terza passata, perché a quel punto il pelo non c'è più, in questo caso è meglio avere un pettine chiuso. Ma per quale motivo si inventano questo rasoio? Perché nelle intenzioni di chi lo progetta la passata è una sola. Cioè l'esigenza di perfezione che abbiamo noi oggi, io credo che non fosse la stessa 150 anni fa. Quindi il discorso è che nulla contro il pettine aperto, sia chiaro, può essere uno strumento utile per chi ha la barba lunga, può essere uno strumento bello da vedere anche per il pettine, anche bello da utilizzare, ma per chi si dirà di tutti i giorni, un pettine chiuso è molto più efficace, è molto più funzionale. Funzionale. Dicevamo, quindi, punto numero uno, secondo me, e so che qualcuno non sarà d'accordo, ma io, così come accetto le opinioni di tutti, dico la mia, il tipo di pettine non ha nulla a che vedere con l'efficacia del rasoio. L'esposizione della rametta, sì. Faccio un esempio. Questo è un rasoio regolabile, che ho già fatto vedere, che è il Mercur Progress. Questo è un rasoio che a pettine è chiuso, guardate, bello chiuso. Ma se noi lo spingiamo al massimo nella sua possibilità di rasatura, guardate che solco. Questo è un rasoio dei più aggressivi, tra virgolette, molto difficile a questa apertura, che è estrema. Quindi, nulla a che vedere con il fatto che il pettine sia aperto o chiuso, ma è l'esposizione della lama. Altro mito, no? Non sfatare, perché non c'è niente da sfatare, da spiegare. Come mai il mitico Mule R41 è considerato il rasoio più efficace e aggressivo che ci sia in circolazione insieme ad altri? Non tanto perché sia un rasoio a pettine aperto, perché in realtà, come vedete bene, ha una sorta di barra. Cioè i dentini sono il pettine di questo rasoio, che è un rasoio che è storico, ha fatto la storia, fa la storia. I dentini sono tenuti insieme da una barra di sicurezza. Quindi questo rasoio che, in teoria, se vogliamo farlo più puristi, è a pettine chiuso. Ha dei dentini molto sporgenti, ma non è un rasoio a pettine aperto questo, in teoria. Ma da cosa è data l'aggressività ed efficacia? Dalla forma della testa, che praticamente è piatta e consente alla lama un'esposizione formidabile. Questo è il punto. Quindi, a chi mi domanda, ma mi posso fare la barra tutti i giorni con l'R41? Ma perché no? Lo sai maneggiare? Sai gestire una lama così esposta? Ma non c'è problema. Chiaro, è più semplice utilizzare per la rasatura quotidiana quello che uso io, che è il Federer ASD2, che consente virtuosismi che, come dire, l'R41 necessita una mano molto più esperta. Con questo si può fare, come dire, i giochi anche addirittura, senza rischiare praticamente nulla. Con questo si può fare tutto, ma serve una mano molto più esperta. Se io ho una macchina con 300 cavalli, una moto con 300 cavalli, ecco, che può essere l'R41, con una potenza di taglio e una esposizione della lama molto efficace, e devo andare su una statale in cui il limite è i 50 all'ora, andrò meglio con uno scooter fatto apposta per andare i 50 all'ora. Adesso io sto facendo un esempio esagerato. Anche se la moto da 300 cavalli mi consentirebbe in autostrada di andare da Torino a Milano in mezz'ora. Sempre che non c'è l'automeno acceso, non fatelo. Ma questo è per dire, il rasoio a pettine chiuso e con la lama meno esposta, su una barba di un giorno, secondo me, è più funzionale, non meglio o peggio, rispetto a un rasoio del genere, con una lama molto esposta. Ciò non toglie che si possa utilizzare. Quindi non è vero che questo va bene o questo va bene. No, ognuno fa quello che si ritira meglio. Io mi diverto a utilizzare una lama molto esposta perché voglio mettere alla prova la mia mano. Ma non diciamo che A, il pettine aperto è più aggressivo e efficace che il pettine chiuso. Non è vero, secondo me. B, non diciamo che è la stessa cosa utilizzare tutti i giorni un rasoio come l'R41, piuttosto che un rasoio come il Feder ASD2. Non è la stessa cosa. Spero di aver chiarito i dubbi di tanti che mi hanno scritto, proprio chiedendo, ma allora sta cosa del pettine aperto. È vero o non è vero? No, nel senso che il pettine aperto è semplicemente un tipo di pettine, lo dice la parola stessa, funzionale a disciplinare il pelo. Quale potrebbe essere una soluzione fantasiosa? Quella che ha messo in pratica la Icon, come mi dice gli amici di pronunciarlo americana, che ha costruito questo modello che, come vedete, pettine aperto e pettine chiuso. Questo potrebbe essere un rasoio che, tra l'altro, alcuni dicono che sia addirittura più efficace nella parte chiusa che nella parte aperta. Per una persona che si radia, magari, una volta ogni dieci giorni, e allora il pelo lo farà con il pettine aperto, quindi disciplinerà il suo pelo, il pelo obliquo e il contropelo con il pettine chiuso, in modo da avere un maggiore controllo e una maggiore scorrevolezza. Molto bene, io spero che sia tutto chiaro, vi auguro buona domenica e continuate a consigliare, se avete voglia e tempo, ai vostri amici, la pagina degli amici della pneumatomia, così aumentiamo sempre più la base dei rasatori. Buona domenica a tutti e un saluto.